Una sorta di circo equestre, una corte dei miracoli con dentro testimonial di una vera e propria dittatura pornocratica. Tutti quanti noi vedremo questa galleria di personaggi che hanno circondato e osannato il leader Silvio Berlusconi. L'Italia dei Lele Mora, dei Fabrizio Corona, dei Vittorio Sgarbi, dei cantori di un immoralismo esibito che non costituisce un problema morale ma costituisce un problema politico. Uno dei cuori del berlusconismo è stato proprio quel mix di sessismo e di maschilismo. L'idea che al centro della scena pubblica debba esservi l'esibizione di quello spirito di dominio, di quella tendenza all'onnipotenza che pare essere una prerogativa del genere maschile, che giustamente rivendica di poter piegare il genere femminile a un elemento di contorno, di stimolo del piacere, alla iconografia della docile preda su cui scatenare le attività venatorie di questi supereroi di carta pesta. Il maschilismo e il sessismo sono problemi politici e riguardano la costruzione egemonica di Silvio Berlusconi. La libertà delle donne non può che essere libertà di prostituirsi. La dignità delle donne non può che essere un discorso pietistico, una sorta di reinvenzione della novella della piccola fiammiferaia con cui si travestono le escort quando vanno nei programmi berlusconiani a raccontare la falsa verità del leader magnanimo. Magnanimo sempre e soltanto con donne giovani, procacci, che corrispondono appunto alla sua idea di femminilità. È importante che la rottura del berlusconismo avvenga su questo terreno. È il terreno dell'immaginario, è il terreno della cultura diffusa, è il terreno della relazione tra i generi. E non è soltanto una lotta delle donne che vedono degradata la propria immagine, ridotto il proprio corpo a un orpello o a una specie di prosciutto a disposizione della voracità e del palato maschile, ma è un problema anche degli uomini che devono criticare ciò che resta in forme patetiche dell'antico primato, del maschile, di questo patriarcato commerciale che prova in tutti i modi a riciclarsi. Per questo non si uscirà del berlusconismo senza la capacità di un seppellimento critico di questi ingredienti indecenti, volgari e politicamente rilevanti che sono stati il sessismo e il maschilismo. Per questa ragione il 13 febbraio rappresenta una data fondamentale nel calendario della decenza, nel calendario della buona politica, nel calendario di chi cerca di voltar pagina in una Italia che è sempre più insopportabile, proprio per questa capacità di ridurre qualunque elemento di etica pubblica all'epifania di un privato indecente.